Mary Jane ASMR Ciao a tutti ragazzi Ciao, io sono Mary Jane ASMR e se ancora non mi conosci prova a scoprire tutti i miei video e rilassati e se ti piacciono i miei video iscriviti al canale e lascio il mio like il video di oggi ragazzi è un video dedicato ai mount sound e al tone clicking io mi anticipo già che da me fa tanto caldo quindi non so i video come verranno per poter fare questo video ho dovuto spegnere il condizionatore e tra un po' iniziare veramente a fare caldo quindi speriamo di farlo bene e intanto vi auguro buon rilassamento bene 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 no, 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 no Dicco dico 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 so good, so good, so good, so good boop, 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 boop boop so good Succa, 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 succa c Investigazione con sullo giusto Succa, 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 succa corvo, cricy cacci corvo, crico olendo corvo corvo Orto codice zzzzzzt chat zizzzzzzzz zizzzzz ci ci uk Sì, 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 sì Sì, sì, sì 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 uuuh bupppppp�pp bupppppppppp bupppppppppppppp situação sono a presto Sì, 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 sì Sì, sì, sì tickle, 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 tickle tickle, 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 tickle tickle, 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 tickle tickle, tickle, tickle tickle, tickle, tickle no 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 un po' più bello buongiorno no oi, 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 oi oi, Field nid ordi oi, C? oh anyway, can we make it look it. Sì, sì. grazie a tutti no 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 buonanotte al prossimo video ciao